100 notizie Brindisi, un cordiale saluto ai nostri telespettatori, benvenuti a questa edizione domenicale del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca giudiziaria, finisce in tribunale il contenzioso fra l'ex dirigente della comune di Brindisi, Simeone e il sindaco Riccardo Rossi, sentiamo. Notifica di conclusione di un'indagine preliminare avviata nei confronti del sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, in seguito ad una denuncia da parte dell'ex dirigente ai servizi finanziari dell'amministrazione comunale, Simone Simeone. Simeone asserirebbe di essere stato oggetto da parte mia, commenta il primo cittadino, di minacce di spostamento ad altro incarico o addirittura licenziamento per forzare il suo parere al bilancio previsionale 2020. Una vicenda paradossale in quanto Simeone, prosegue Rossi, ha posto un parere negativo a quel bilancio e nulla è successo in relazione a ciò da lui denunciato. Non c'è stato alcun provvedimento di rimozione di incarico o licenziamento. Il dirigente ha svolto il suo incarico fino al primo marzo 2021 in assoluta autonomia e senza interferenze. In questi giorni, anticipa il sindaco, chiederò di acquisire tutte le carte e di essere ascoltato dal magistrato e valuterò tutte le iniziative, conclude, nei confronti dell'ex dirigente Simeone a mia tutela. Ci sono le reazioni, quelle di Brinesi, bene comune che esprime solidarietà al primo cittadino, ma ci sono anche le parole di Serra, Gianluca Serra, in qualità di presidente della commissione che si occupa proprio di questi affari e che ha dichiarato vengono sospese le attività e tutti gli atti sono a disposizione della magistratura. Sentiamo. Siamo convinti che il prezioso lavoro della magistratura che apprezziamo e stimiamo chiarirà ogni aspetto di questa vicenda. Così Brindisi, bene comune, esprime solidarietà al sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, dopo i fatti giudiziali che lo hanno visto coinvolto. Riccardo è patrimonio di questa comunità politica e da sempre il nostro cammino ha come unica bussola la legalità, anche e soprattutto in questa esperienza da amministratori della città. Sull'argomento interviene anche il capogruppo del Movimento 5 Stelle Gianluca Serra che spiega dopo la conferma delle notizie di stampa sulle indagini a carico del sindaco Rossi viene sospesa l'attività della commissione di indagine e servizi finanziari da me presieduta che aveva individuato fra le proprie finalità quella di approfondire atti e fatti posti in essere dall'amministrazione con riferimento all'applicazione del piano di riequilibrio e pareri negativi per dare certezza sul reale svolgimento degli eventi e sulle successive conseguenze nella vita amministrativa dell'ente. Si era altresì inteso, prosegue Serra, indirizzare l'attività di indagine sull'esistenza di un clima di frizione tra parte politica e struttura fino all'arrivo del commissario ad acta per la redazione del bilancio di previsione 2020. Questa scelta è doverosa per non sovrapporre l'attività della commissione con quella prioritaria della magistratura che ha attenzionato medesimi fatti e circostanze. Le registrazioni delle sedute di commissione, conclude Serra, e la documentazione acquisita sono ovviamente a disposizione della magistratura. Allora uno sguardo, un aggiornamento relativo alla situazione Covid-19 ma anche a quella dei vaccini nel territorio provinciale perché sabato 17 aprile, quindi ieri, sono stati registrati 12.935 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 1.525 casi positivi, dei quali 146 in provincia di Brindisi, numeri che dunque tornano a crescere. Sono stati registrati sempre a livello regionale 11 decessi, due dei quali nel territorio provinciale di Brindisi. Sul fronte delle vaccinazioni non mancano le polemiche soprattutto in questi giorni, visto che la Puglia ha meritato la maglia nera in questa campagna, ma a Brindisi vediamo come sono andate le cose perché ieri sono stati vaccinati pazienti oncologici degli ospedali Perrino e Camberlingo di Francavilla Fontana. Sono circa 470 i pazienti afferenti ai reparti di oncologia dell'ospedale Perrino di Brindisi e del Camberlingo di Francavilla Fontana che sono stati vaccinati sabato nel centro Marconi Flacco del capoluogo e nel tensostatico di Oria. Il punto della situazione con l'oncologa Palma Fedele. Sicuramente abbiamo avuto una forte partecipazione dei pazienti alla vaccinazione, la visione è stata davvero molto alta, non soltanto da parte dei pazienti ma anche da parte dei caregivers e questo è un aspetto importante correlato a due fattori. Da una parte il fatto che tutto il team dell'oncologia ha sempre creduto molto nell'importanza della vaccinazione e quindi ha favorito anche l'informazione di questa procedura tra i pazienti ma anche attraverso i social network e dall'altra c'è stato proprio il coinvolgimento diretto di tutto il personale che lavora in oncologia nell'organizzazione della vaccinazione nelle varie fasi. Per esempio un momento importante è stato quello della chiamata del paziente, quindi il team dell'oncologia ha informato il paziente della data della vaccinazione e contestualmente ha anche eseguito quelle variazioni di programmazione dei trattamenti di chemioterapia o di immunoterapia per consentire al paziente di effettuare la vaccinazione in estrema sicurezza. Vaccinati anche pazienti con malattie rare e anche quelli che sono in cura nel reparto di pneumologia dell'ospedale Perrino di Brindisi. Malattie rare sempre sabato sono stati vaccinati i pazienti in cura nella pneumologia dell'ospedale Perrino di Brindisi. 20 fra pazienti e caregiver che sono stati vaccinati dagli operatori sanitari del reparto di pneumologia diretto dal dottore Eugenio Sabato. Il nostro reparto, ha dichiarato l'infermiere Piero Grego, segue i suoi pazienti nella cura della malattia, nell'assistenza post-covid e nella prevenzione per evitare il contagio. Oggi ci troviamo nel centro vaccinazione La Primula dell'ospedale Antonio Perrino. Come reparto di pneumologia stiamo seguendo i nostri pazienti anche nella prevenzione da questa malattia. Quindi ci troviamo quest'oggi nel vaccinare i nostri pazienti che già seguiamo tutto l'anno nei nostri ambulatori. In particolare ci sono una ventina di pazienti che soffrono di determinate patologie, quali la fibrosi polmonare idiopatica o la sarcoidosi, che hanno ricevuto una vaccinazione insieme ai loro caregiveri, quindi coloro che si prendono già cura a casa quotidianamente. Quindi noi come reparto ci ritroviamo a seguire i nostri pazienti, non solo nella cura della malattia, nella gestione post-covid, ma anche ci prendiamo cura della prevenzione per evitare il contagio da questo virus. Ad ora cambiamo argomento, parliamo dei lavori in corso per l'adeguamento dello scalo Brindisino, parliamo dell'aeroporto della Salento, adeguamento della pista e ovviamente lo scalo sarà chiuso in questi giorni che ci dovrebbero avvicinare, preparare alle nuove aperture. Per questo non sono mancate le polemiche anche su Facebook da parte di gente che ovviamente avrebbe dovuto utilizzare questo scalo proprio nel mese di maggio. E così sull'argomento è intervenuto Paolo Taurino che ha scritto al sindaco di Brindisi, nonché presidente della provincia, Riccardo Rossi. Nella mia qualità di coordinatore territoriale per Brindisi e provincia di Confimprese Italia, chiedo un suo intervento in merito alla salvaguardia del lavoro delle imprese locali e degli investimenti dei cittadini. Nello specifico, da alcune segnalazioni dei tanti post letti sui social, si evince che l'aeroporto del Salento resterà chiuso per quasi tutto il mese di maggio. Le chiedo, in qualità di presidente della provincia di Brindisi e sindaco del comune capoluogo, aggiunge Taurino, di verificare se la notizia è veritiera e le chiedo di impedire in concomitanza con le riaperture questa chiusura che certificherà la morte di tante aziende turistiche impegnate nella valorizzazione della nostra terra. Ed è tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale. Vi ringrazio per essere stati con noi. Ha curato la parte tecnica Dario Spagnolo. Ora la linea ritorna a Taranto. Grazie a tutti.